Icaro Basket, officina Ranieri di Sciacca, ancora protagonista a livello giovanile. Due atleti sono stati convocati e hanno preso parte all'interessante raduno per la categoria Aquilotti. Il raduno ha interessato i migliori prospetti provenienti dalle province di Agrigento, Palermo, Caltanissette e Trapani. Da Sciacca i protagonisti sono stati Sara Monastero e Victor Bisceglie, che hanno disputato un'ottima prova. Una bella manifestazione che ha permesso a tantissimi ragazzini e ragazzine non soltanto di proseguire il loro percorso di crescita con la pallacanestro, ma anche di socializzare e tessere nuovi rapporti di amicizia. È previsto invece per questo pomeriggio, per la categoria Under-14, l'esordio in panchina del nuovo coach Giovanni Luppino. La squadra ospiterà a Ribera i parietà del Gela. C'è curiosità nel vedere all'opera questo interessante gruppo coordinato da Luppino, di Campobello di Mazzara, che già nel recente passato era stato un giocatore della Icaro Basket, allorquando la società disputava i campionati per adulti della CSI. Per quanto riguarda infine il campionato della categoria Under-18, la squadra di Giovanni Monastero e Sara Vignanello ha perso contro l'Alcamo. Per i seccensi sono andati a punti i curreri che ne ha realizzati tre, Viviano 2, Di Stefano 24, Gallo 11 e Gibara Caram 6. Nelle ultime partite in calendario qualche altra sconfitta è stata conseguita anche nelle altre categorie. Seppur l'obiettivo del sodalizio di Monastero è quello di far divertire questi ragazzi, farli socializzare e farli crescere, incontro dopo incontro, all'interno del mondo della pallacanestro, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista agonistico. Icaro Basket officina Raneli che, nonostante sia limitato per quanto concerne l'impiantistica sportiva saccense, sta già programmando le manifestazioni successive, a partire da quelle estive, come i Bomber Camp. Per quanto riguarda l'attività della Icaro Basket, al di là dei vari campionati, ci saranno sempre gli appuntamenti estivi, quelli canonici? Sì, sicuramente. Io domani pomeriggio ho appuntamento con un signore che dovrebbe farci vedere una nuova struttura perché dovremmo allargare, spero, il bacino di utenza. Non farlo soltanto per le persone di Sciacca ma anche per altre città. Quest'anno dovremmo avvalerci di nuovo dalla collaborazione di Ivan Drigo e di Alessandro Vigilante. Cercheremo di portare il famoso turismo sportivo a qua Sciacca. Ci stiamo provando.